Con Giacomo Pallucca di Omron, esordi oggi sul mercato italiano per il nuovo robot collaborativo sviluppato in collaborazione con Techman, che adesso vi facciamo vedere. Giacomo, ci racconti intanto quali sono le caratteristiche principali. Le caratteristiche principali sono sicuramente l'aspetto collaborativo del robot. Naturalmente il grande plus è avere il sistema di visione integrato nel robot, quindi compreso nel robot abbiamo tutto il sistema di visione che fa da guida robot, l'integrazione poi con tantissimi partner da un punto di vista di accessoristica, come vediamo la pinza Schunk, poi anche un partnership con altri grandi produttori di organi di presa e sensoristica. Quante taglie saranno disponibili? È già sul mercato, no? Sì, è sul mercato da dicembre, qui abbiamo la taglia TM5-900, poi avremo anche a disposizione altre tre taglie, una variante più piccola da 700 mm di sbraccio, una variante più grande da 1300 mm di sbraccio con payload 12 kg e una variante 1100 mm con payload 14 kg, quindi per grandi carichi. La cosa bella è che tutti questi carichi sono compensati dal robot, quindi quando gli insegneremo il movimento lui non ci farà sentire il payload dell'oggetto che stiamo movimentando. Quali sono i punti di forza rispetto a altri cobot che ci sono già sul mercato? Allora, come ho già detto, sicuramente il punto di forza principale è la visione integrata e secondo passaggio è quello che vediamo nello schermo, ovvero il sistema con il quale si sviluppa il software. È pensato per un'interfaccia intuitiva, adesso qui non vediamo la parte di programmazione, ma è una programmazione flowchart, quindi basata su uno schema blocchi che l'utente può programmare molto semplicemente. Poi qui possiamo fare un dettaglio della telecamera sulla quale sono presenti diversi bottoni che servono proprio per insegnare il percorso di movimento al robot e il percorso di apertura e chiusura pinza, ad esempio qui in tastino vision per andare a programmare un task di visione e insegnare al robot il processo proprio fisicamente, quindi maggior contatto tra l'uomo e la macchina. È prevista anche un'integrazione con la linea di robomobili LM? LD, sì sì sì, esatto, quello che vediamo qui ad esempio il nostro robot LD, già da SPS potrete assistere alla prima demo in cui ci sarà un robot LD con a bordo un robot collaborativo. Una domanda difficile, ma sommando due robot collaborativi la precisione se ne va a far benedire oppure resta? Dipende sempre dall'applicazione naturalmente, non stiamo parlando di roba precisi come un robot industriale classico che però noi possiamo fornire e quindi anche da parte nostra gli studi di fattibilità sono all'ordine del giorno, quindi nel caso in cui la precisione fosse importante noi possiamo offrire sia un robot collaborativo sia un robot non collaborativo. Essendo una grande azienda abbiamo questa possibilità di scelta. Ci puoi dare un'idea della fascia di prezzi più o meno a cui sarà disponibile il Cobot? Il Cobot che è già disponibile ha una fascia di prezzi in linea o in mercato, possiamo dire anche meno vista la presenza della telecamera su ogni prodotto della linea siamo negli ordini dei 20-30 mila euro poi dipende naturalmente dai volumi, poi io sono il tecnico per la parte commerciale, ci sono fior fior di persone.